L'opera di ristrutturazione dello staff tecnico del Pescara investe anche il settore giovanile che perde i suoi due principali pilastri. Stamani l'annuncio dell'addio del responsabile Giuseppe Geria e del responsabile tecnico Antonio Di Battista. La fine del rapporto di lavoro con Di Battista era nell'aria anche se fa specie perché al di là del ruolo apicale era una sorta di istituzione nel settore giovanile bianca-azzurro con il quale ha collaborato da una vita e che ha fatto crescere coltivando giovani talenti e allenatori di prospettiva. Anche a livello di prima squadra. Per Di Battista però si apre subito una nuova opportunità professionale poiché a breve si legherà con il Bologna. Più a sorpresa l'addio di Giuseppe Geria per il quale era circolata anche l'ipotesi di direttore sportivo. Il presidente Sebastiani più volte nelle scorse settimane aveva dichiarato che voleva tenersi stretto Geria per il settore giovanile ed era pronto ad offrire il prolungamento del contratto scaduto il 30 giugno. E invece dopo 5 anni le strade si separano. Purtroppo la retrocessione ha creato non pochi problemi a livello di settore giovanile, si spiega nella nota della società, facendo venire meno anche l'entusiasmo di chi giornalmente ha sempre lavorato per la crescita dei giovani. Anche se le strade si dividono, questo non sarà un addio ma un arrivederci. Il rapporto umano e professionale instaurato rimarrà nel tempo. Ho avuto piacere di lavorare con due persone straordinarie e soprattutto due grandi professionisti a cui auguro le migliori fortune. Queste le parole del presidente Sebastiani. La promozione della primavera, la seconda in tre stagioni e la vittoria della Supercoppa col Verona sono solo gli ultimi di tanti successi collezionati. Ora si apre la caccia al neoresponsabile del settore giovanile. Un nome forte sembra essere quello dell'ex DS Antonio Bocchetti, una sorta di soluzione interna. Circa la prima squadra continua a tenere banco il mercato. Il nome nuovo delle ultime ore è quello del 25enne possente centramanti argentino Franco Ferrari, di proprietà del Napoli. Il giocatore è reduce dalla vittoria del Girone A col Como e tra le squadre del suo passato vi è il Piacenza della Lora DS Luca Matteassi, ora al Pescara. Tanta serie C per Ferrari e anche il debutto in B con la maglia del Brescia nel 2018. Il Pescara sta cercando l'intesa con Napoli, col quale potrebbe portare a termine una doppia operazione e già noto il forte interessamento per l'esterno Eugenio Dursi. Qualora i due calciatori indossassero la casacca del Pescara e allo stato ci sono ottime probabilità e in caso di permanenza di Galano, Gaetano Oteri avrebbe il suo tridente, Dursi, Ferrari, Galano. Un trio che sulla carta ha tutto, potenza, estro, tecnica e soprattutto gol. Con questi innesti si procederà all'uscita di altri attaccanti su Bunino-Cela-Provercelli, in lista di sbarco anche Borrelli e Belloni.